Buonasera, questa sera abbiamo il piacere di avere come quinto concerto del Verona International Guitar Festival José Luis Ruiz del Puerto, che oltre a essere un eccellente concertista, uno dei punti fermi della musica contemporanea per chitarra spagnola e anche il direttore artistico delle Jornadas Internazionales di Valencia. Allora, benvenuto a Italia. È la prima volta che tu hai stato in Verona. È la prima volta che tu hai, sì, per toccare questo concerto in questo luogo stupendo e meraviglioso. Io chiedo a José Luis di fare un programma specifico per le donne. E diremmo anche per quale motivo lui ha scelto di accettare questa mia proposta. Perché hai elegito di fare un programma dedicato a le donne compositori per la guitarra? Perché realmente la musica di creazione femenina sta molto, molto olvidata. Quindi ho credito con un progetto che ho stato realizzato durante anni, intentar prestigiar la musica delle donne che sta quasi dormita. Quindi ho seleccionato un gruppo di obras che credo che encagiano molto bene in un programma e darlas a conoscere perché quasi sono primeras audizioni, quasi sono estreni dove vorrei toccare queste pezze. È musica molto buona, meravigliosa, che credo che merece la pena che si programi i concerti. La tua attività si sviluppa praticamente in tutto il mondo, in Mèxico, in Sudamérica, in España, in Italia, in Anglaterra... E hai una preferenza per un paese in particolare? Beh, a parte del mio paese, che come sapete, la guitarra è l'instrumento nazionale e un instrumento molto, molto querido, mi sento molto, molto a gusto sempre che vengo a Italia, per fortuna, vengo bastanti volte, ho stato in diversi festivali e sempre la accogida è molto buona, hai grandi guitarristi, grandi scuole di guitarra e per me è davvero un paese molto rappresentato con il mio, con la Spagna, in molti cose, e credo che se entiende molto bene il linguaggio della guitarra. Siamo come primi. Sì, credo che sì. Espanoli e italiani. Tu sei dedicato a moltissime cose contemporanze per la guitarra, e puoi dire come funziona la relazione tra il guitarista e il compositore? Sì, precisamente a mi nel lavoro artistico è qualcosa che mi appassiona più, perché entabli una conversazione con un compositore, che questa conversazione arriva a un buon fin con una obra che si può lavorare con lui direttamente, mi sembra uno dei maggiori piacere per un intérprete. Quindi ho avuto la sorte di conoscere buoni compositori, avere buoni amici compositori che hanno chiesto dedicare una pezza per la guitarra. e, a mezzo di questo lavoro, mi personal, come gusto personal, penso che è qualcosa di importante che i guitaristi possiamo fare per rinforzare ancora più il repertorio. A parte, come dico, la passione che si può sentire, questa cercanità con il compositore, sapere che realmente interpreti la pezza come il compositore, come il compositore, in principio, vuole che si fa. E hai una pezza in particolare che ti piace più tra le pezzi che ti fai a tocare questa notte? Beh, in questa notte, precisamente, non una pezza, diciamo, due pezzi, una che mi tocca direttamente il coraggio, perché è la di mia professora Rosa Gil. Voi a tocare Melancolia, una obra che ha solamente due in suo catàlogo, perché lei è stata professora e concertista di guitarra, però ha fatto due obras per guitarra. Una delle cose è la che vi a tocare, che spero che mi piace molto, e, come dico, per me è un piacere. Si, si, già la conosciamo, nostra amica Rosa Gil Bosque, che la chiamiamo la signora della guitarra. La signora della guitarra, è una gran dama della guitarra. E' una grande dama della guitarra. E' destacare, come non, la musica che ha fatto Claudia Montero, che ha stato galardonato due volte con il Grammy latino, alla miglior composizione di musica classica, e la sua prima obra per guitarra sono «Los Tres Colores Porteños» che vi a tocare oggi, che credo che è un'obra bellissima, e a la che le tengo un cariño molto especial. Vale. Te grazie per le tue parole, e benvenuto in Verona al quinto concerto che vas a tener questa notte, qui, in questo palazzo prezioso. Grazie mille, sono molto felice. Vale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.